è facile sentirsi pieni di speranza in una bella giornata come oggi ma davanti a noi ci saranno anche giorni bui giorni in cui ci sentiremo soli è allora che serve la speranza non importa quanto in fondo sarà seppellita o quanto perduti vi sentirete dovete promettermi che mai rinuncerete alla speranza mantenetela viva dobbiamo essere più forti delle nostre sofferenze l'augurio che vi faccio è di diventare voi stessi speranza la gente ha bisogno di questo e anche se falliamo non c'è modo migliore di vivere guardando oggi intorno a noi tutte le persone qui che ci hanno aiutato a diventare ciò che siamo so che apparentemente ci stiamo dicendo addio ma porteremo un pezzo di tutti in ogni cosa che faremo in futuro per ricordarci sempre chi siamo e cosa vogliamo davvero